In questo video ti mostrerò uno strumento totalmente gratuito che ti permetterà di spiare le ads, le pubblicità a pagamento dei tuoi competitors, effettuate attraverso per esempio Facebook Ads ed Instagram Ads. Io sono Mirko Delfino, ossia founder di Build Your Brand, un'azienda che da anni si occupa di formazioni nel mondo del digital marketing e nel mondo della pubblicità a pagamento, advertising, e attraverso questo strumento completamente gratuito ti permetterò di spiare la concorrenza per capire come sta lavorando attualmente, ok? Quindi tu potrai essenzialmente capire cosa funziona e cosa non funziona nel tuo settore, capire come i tuoi competitors stanno pubblicizzando i propri servizi e prodotti, che tipologia di contenuti video utilizzano, immagini, copy, parte testuale, eccetera, eccetera. Quindi riuscirai realmente a comprendere che tipologia di lavoro stanno portando avanti, che pubblicità stanno effettuando. E ripeto, questo ti servirà per avere un grossissimo vantaggio rispetto alla tua concorrenza. E lo faremo attraverso un video tutorial, quindi entreremo all'interno del mio PC, cioè entreremo all'interno di questo tool e ti mostrerò tutte quelle che sono le funzionalità per poter sfruttare questo tool, questo strumento a 360 gradi. Ok, eccoci qui, siamo all'interno del mio PC. Come potete vedere la prima cosa che dovete fare è aprire il motore di ricerca che preferite. Io sono all'interno di Google. E scrivere la keyword libreria inserzioni. Aggiungete anche magari Facebook, quindi libreria inserzioni Facebook, e vi si aprirà questo risultato. Quindi il primo risultato, libreria inserzioni Facebook, è quello dove naturalmente dovete cliccare. Una volta cliccato su libreria inserzioni Facebook, si aprirà una schermata come questa. Ora, quello che voi potete fare, essenzialmente sulla libreria inserzioni Facebook, è ricercare qualsiasi tipologia di inserzionista e quindi di inserzione pubblicità a pagamento che viene effettuata anche dai vostri competitors su Facebook, oppure naturalmente inserzioni con temi sociali, lezioni o politica. Ok? Io naturalmente nel caso in cui non vi interessa questa voce vi consiglio di cliccare sempre qui. Alcune volte è selezionata direttamente questa voce, quindi ricordatevi di cliccare su qualsiasi. E poi qui potete scrivere il nome di qualsiasi vostro competitor. Quindi per esempio volete ricercare la Coca-Cola, allora andate qui su Coca-Cola ed ecco che si aprirà la pagina di Coca-Cola con i dettagli sulla spesa, vi dirà anche quali sono le inserzioni attive, vi farà vedere per esempio il filtro per paese o tutte le nazioni e così via. Ora, nel caso specifico della Coca-Cola, come potete vedere, non ci sono inserzioni attive. L'ultima inserzione è di ottobre 2019 e qui potete anche andare a visionare e vedere per esempio la creatività, quindi video, le immagini e così via. Quindi diventa molto interessante perché potete analizzare veramente tanti aspetti e adesso vediamoli nel dettaglio nelle prossime schede che ho già preparato in modo tale da farvi vedere alcuni dettagli diversi a seconda naturalmente dei settori. Prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi tanti altri contenuti come questo, quindi mi raccomando fatelo adesso. Bene, andiamo un po' avanti e vediamo alcuni dettagli. La stessa identica Facebook, ok, va a pubblicizzare le sue inserzioni all'interno di Facebook, quindi questo vi fa capire l'importanza di sfruttare le pubblicità a pagamento. Ora, andiamo a analizzare un attimino, partendo dalla scheda di Facebook, come possiamo vedere nel dettaglio tutti gli aspetti di un'inserzione. Come vi dicevo, qui possiamo filtrare, quindi la nazione, la piattaforma, perché possiamo anche decidere di poter vedere le inserzioni effettuate solo su Facebook, su Instagram, audience network, messenger, poi naturalmente le date, come vi dicevo i temi sociali, elezioni o politiche, tutte le inserzioni, anche l'interno della scheda li possiamo selezionare, i paesi, quante volte è stata cambiata il nome della pagina, quando è stata creata la pagina, altri dettagli come il numero di follower, di mi piace, scritto e quant'altro, ok? Qui in basso, ok, andiamo a visionare le varie inserzioni a seconda naturalmente della data in cui sono state pubblicate. Come vi dicevo, questa può essere una risorsa molto importante per capire intanto le creatività che vengono realizzate, immagini, video, quindi possiamo prendere spunto. Possiamo vedere cosa scrivono nei testi, cliccando qui naturalmente leggiamo un po' tutto il testo, possiamo vedere l'ID dell'inserzione, possiamo vedere se è attiva, la data di inizio della pubblicazione e dove è stata pubblicata. Quindi qui possiamo anche andare a visionare, essenzialmente se le inserzioni vengono pubblicate da altre parti o solo per esempio all'interno di Facebook o solo per esempio all'interno di Instagram o tutte e due. Una volta che noi clicchiamo su vedi dettagli dell'inserzione poi abbiamo maggiori informazioni, sia sull'inserzione sia sull'inserzionista. Andiamo avanti per esempio e vediamo la Juventus, ok? Allora se io vado a selezionare le pubblicità della Juventus in Italia, quindi vado qui in basso e clicco su Italia, ok forse era qui in alto una delle prime, va bene scriviamo Italia, ok? Non ci sono ecco, in questo momento inserzioni della Juventus in Italia non ci sono, quindi io seleziono tutte ed ecco che naturalmente mi appaiono le varie pubblicità, ok? Quindi come potete vedere anche le squadre di calcio sfruttano le inserzioni di Facebook per pubblicizzarsi, magari la Juventus non lo fa in Italia perché è già abbastanza seguita, ma lo fa in tutte quelle nazioni in cui ha un mercato che sta nascendo e dove vuole spingere naturalmente per farsi conoscere sempre di più, per vendere magari il proprio merchandising, ok? Andiamo avanti e vediamo per esempio Matteo Salvini, quindi qui parliamo naturalmente di elezioni relative alla politica, temi sociali, elezioni o politica, e infatti come potete vedere la spesa è abbastanza elevata, ok? Nel senso che comunque rispetto a un classico inserzionista che spende magari 5, 10, 15, 20 euro, 50 euro, 100 euro al giorno, nel caso di Matteo Salvini la spesa è importante. Come potete vedere sono 343 mila euro, noi possiamo andare anche a visionare i dettagli della spesa e capite bene e comprendete che questo è veramente uno strumento trasparente perché ci dice tutto, anche dal punto di vista della politica, addirittura noi possiamo sapere la spesa, quindi in questo momento mentre sto registrando i video, dal punto di vista delle inserzioni in generale non possiamo sapere quanto stanno spendendo gli inserzionisti, ma quando sono questi temi lo possiamo sapere con esattezza, ok? E anche qui possiamo vedere se ci sono inserzioni attive, dove sono state pubblicate, che tipologie di inserzioni sono state pubblicate e così via, ok? Andiamo avanti e vediamo per esempio Montemagno, quindi parliamo di una persona che lavora nel mio stesso settore, nel digital marketing, qui possiamo vedere se ci sono in primis inserzioni di temi sociali, lezioni o politica e ne abbiamo uno qui, ok? E questa è l'inserzione che non è più attiva, qui invece possiamo vedere tutte le inserzioni, possiamo anche vederle in tutto il mondo, quindi in tutto il mondo sono 46 inserzioni suddivise, 42 in Italia e 4 in Svizzera, quindi possiamo anche vedere che Montemagno per esempio si sta pubblicizzando in Svizzera. Adesso io sono con Chrome in incognito, sto navigando, quindi probabilmente l'inserzione non si vede per questo, ma possiamo vedere che le inserzioni pubblicizzate da Montemagno vengono pubblicizzate su Facebook, Instagram, Audience Network e Messenger, infatti grazie a Facebook CBO, quindi ottimizzazione del budget a livello di campagna, noi possiamo comunque anche non inserire molto spesso il posizionamento, ma far scegliere direttamente a Facebook in modo tale da ottimizzare i risultati, ok? E quindi questa è una delle strategie che può essere utilizzata, io vi consiglio però sempre di fare a bitest, perché magari l'informazione che vi dico oggi, tra un mese è obsoleta, va bene? Infatti qui per esempio vediamo un'inserzione pubblicizzata solo su Facebook, e qui abbiamo le varie inserzioni, vedete questa è un'inserzione verticale, probabilmente creata ad hoc per Instagram, ma viene pubblicizzata anche su Facebook, su Audience Network e su Messenger, ok? Quindi vi dico questo perché molto spesso mi capita che qualcuno magari vede una mia inserzione verticale, dove dico fai lo swap up, la vedo su Facebook, e ride e critica pensando che non so che in realtà su Facebook non esiste lo swap up, in realtà è stato fatto ad hoc e molto spesso quelle inserzioni su Facebook hanno un costo bassissimo, quindi ci può stare, va bene? Poi andiamo avanti e vediamo Nike, ok? Nike si pubblicizza in tutto il mondo, in questo momento ha 150 risultati, se non erro in Italia non ha inserzioni attive, e anche in questo caso che cosa fa? Utilizza inserzioni solo per Instagram, per Facebook ed Instagram, pubblicizza magari nuovi prodotti, pubblicizza il suo merchandising naturalmente, quindi in questo caso specifico scarpe, magliette, t-shirt, eccetera, eccetera, quindi come potete vedere anche i grandi brand, i grossi brand vanno a pubblicizzarsi. Temi di social, elezione o politica non ci sono, quindi andiamo avanti e vediamo l'ultimo caso di questo video, anche perché credo che sia abbastanza chiaro, che è Anthony Robbins, che comunque molti di voi conoscono perché si occupa di crescita personale, come potete vedere ha una pagina italiana, quindi non sto andando a vedere la sua pagina internazionale, ma io se clicco tutte, come potete vedere, ho 14 risultati, con questa pagina italiana si pubblicizza in India e in Italia. E praticamente queste sono le sue inserzioni. Quindi per chi si occupa di marketing può essere un'ottima idea quando non sa cosa deve andare a pubblicizzare, nel senso sa cosa deve andare a pubblicizzare il suo prodotto, ma non ha in mente in quel momento la creatività corretta. Allora fate una chiara analisi dei vostri competitors e andate a vedere che immagini usano, che video usano, quanto durano, che cosa c'è scritto, dove vengono pubblicizzati. E voi naturalmente sapete benissimo che se i top competitors nel vostro settore lavorano in questo modo, evidentemente quello che fanno funzionano. Attenzione, va sempre testato, però comunque parliamo di competitors che lavorano bene, come nel caso per esempio di Anthony Robbins, che può piacere o non piacere, ma i risultati ci sono, come nel caso di qualsiasi politico magari che abbiamo visto, di Facebook e così via. Comunque al di là di tutto significa che quello che fanno in qualche maniera è mediatico, funziona. Quindi io non sto a parlare qui se è giusto o no, vi sto facendo vedere le cose che potenzialmente funzionano. Quindi utilizzate questa piattaforma, avete tutti i dettagli a disposizione, vi ripeto, se volete avere maggiori dettagli sull'inserzione potete andare qui, vederla, potete andare a prendere naturalmente l'ID, il link e tutto il resto, potete vedere le informazioni nella pagina, i mi piace e così via. Avete veramente tutto a disposizione attraverso la libreria inserzione di Facebook. Bene, con questo video abbiamo terminato, qui da Mirko del Fino è tutto, ci vediamo all'interno di un prossimo video, ciao e a presto!